E' arrivata la bambolina, la mia principessa realizzata da me, 1,8 kg del Golfo India Tony di Novara, una parabola per 2 giga e 4, 1, 2, 0, 120 centimetri. Ok, mi giro, di fronte vedete in fondo la parabola da 120 e la ricezione, offset, eccola qua, si presenta, domani facciamo il test di controllo della centratura del satellite, vedere cosa salta fuori, questo è il mio lavoro che ho realizzato, il passaggio ce l'ho ottimale, anche quella da 2 metri ci sta dentro, al massimo potrei arrivare qui, 1,50 m, 1,50 m, ci sto dentro perfettamente a passare sul mio boccone, ok, qua c'è il supporto per l'NNB, accentratura, via centrata, supporto di dietro, ancoraggio, di regolazioni, della regolazione, dando avanti e indietro. Tutto qui, vi ringrazio, faccio vedere il mio panoramica, serale, il satellite più o meno è qui dove c'è la cubola, in alto, qui abbiamo l'altra parabolina, se andiamo a direzionare, è direzionata proprio sul satellite, sulla cubola. Ciao ciao, faremo le prove domani, 73,1 hotel golf India.